ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo episodio della nostra aerobrine mansion sono qui con pixel pro edo anir ciao ciao e niente praticamente in questo episodio non ci sarà bubble perché dopo dopo aver perso praticamente tre episodi a prendere roba a luttare tutto quello che poteva ha pensato bene di farsi togliere la connessione internet dalla tiscali quindi adesso dobbiamo vestirci da anir che è in nudo barbone in nudo vestiamo il barbone ma io la cambio con la mia di roba ok allora adesso direi andiamo su ci manca da killare aerobrine ragazzi siete pronti psicologicamente se non mi sbaglio era qua sopra fidiamo il tuo senso e l'orientamento ok l'abbiamo già trovato ho guardato un po e ma avete carne no perché sarei già morendo sono barbone insomma già ti abbiamo vestito ti dobbiamo anche dare da mangiare vai ok allora ragazzi siete pronti via special abilities static field and resurrection dov'è oddio c'è praticamente aerobrine che ci ti dobbiamo mettere il tuo senso e l'opportunità che non mi sbagliare o mio dio eccolo pensate che I think you underestimate my ok va bene niente lasciamo perdere dopo leggiamo ma ci sono delle robe invisibili oh mio dio quando sono finito allora ok questo abbia anche il lato dove va l'altro aerobrine mamma mia sta stuprando me pixel pro io ti ricordo che aiuto hai mutato per tutto il video grazie perché molto gentile ma sto qui non credere il faglio buono sì no infatti aiuto mi hai bruciato voglio morire aiuto come faccio ok buon sono morto ragazzi mettiamo dove sei sponato qua attaccato sì sempre qui sempre qui dividiamoci i compiti allora io sto in teoria dovremmo occupare prima quello che fa le fiamme immagino aiuto oddio areta oh ha summonato il ragno ragazzi ma che figo dai tutti sul ragno ciò va bellissimo ragazzi sembrano i boss di world of warcraft io non vi sento più ragazzi ci siete stiamo troppo concentrati va bene a non laggare concentration ok la strega perché sono sopra il faro che sto volando non lo so non l'ho capito penso che ti ti incapacita per un po' di tempo comunque la cosa bella è che finalmente siamo riusciti a vedere la ragna ragazzi che prima non eravamo riusciti a vederla che novità vai la strega è uccisa sto qua però adesso non sta facendo danni quando li fa fa tanti danni però quando non li fa un sacco a quello da pelle a pugno aiuto ok sono scesa però sto morendo aiuto ho della glow sun dust cosa faccio a mezzo cuoricino cibo ma zio buono muori anche quella notte che aerobrine ti notte che aerobrine però c'ha le braccia verdi da zombie dalla mia visuale ha le braccia verdi? si la testa da aerobrine non ci ho fatto caso ma dalla texture pack do e che palle respawn avete killato? no è ancora lì mi sei dietro la ok ragazzi ho killato aerobrine oh mio dio mi ha dato anche la spada sharpness 7 mi si è rotta anche no tenacity no dove va? mettiamo l'elmetto l'elmetto vediamo se è un elmetto sono in cielo il motivo è morto perché sono in cielo dove sei in cielo? no ah perché ah no l'abbiamo già visto praticamente funziona così uno di voi dovrebbe avere nell'inventario ok ce l'ho io un music disc che fa fermare tutte le abilità speciali ok allora ragazzi bene abbiamo killato aerobrine nel nostro quest log dirai che ci manca soltanto il wither da killare kill the wither ah e ci avverte che questo boss fight richiede coordinazione e delle skill e allora siamo messi bene siamo messi bene make sure e poi non si legge più che cosa di che cosa ci dobbiamo assicurare quindi allora direi siamo vestiti meglio che possiamo andiamo di qua andiamo di qua io nel frattempo ce la chapeau ragazzi cioè guardate guardatemi in tutta la mia pauposità victor ma chi quello del ts victor no victor è all'omino che sta all'inizio cosa ha scritto victor aspetta victor ci scrive ehi siamo qui dovresti upgradare e prendere delle pozioni ci vengono le pozioni andiamo a prendere le pozioni torniamo giù ah oui c'è una una cassa con le le quest o ah c'è la strategia per killare il weeder allora leggiamola l'obsidian skeleton droppa una cristallo della anger che non so cosa sia questo potrà essere usato dai mercanti nella piattaforma on the right of the weeder per comprare la la heaven's grace bow fa un sacco di danno ma dura soltanto 3 arrow quindi non sbagliate quando il weeder arriva al 50% potrai andare in melee e finirlo ok allora quindi remember to use holy water to clean out the obsidian skeletons ok io non ci ho capito niente e credo che dobbiamo diciamo debolirlo con le frecce e poi solo quando la vita al 50% attaccarlo corpo a corpo fantastico e allora siamo entrati nel nether è il boss presumo allora ok ragazzi nome originale ma io spero che oh mio dio ok non ci ho capito niente ci dovrebbero essere degli npc se non sbaglio aiuto dove siete ragazzi eh stiamo arrivando che sono già morto siete già morti andiamo bene ok aiuto per la crena che siamo in modalità isia eeeh non ho capito che cosa dobbiamo fare ci dovrebbero essere dei mercanti se ho capito bene dovrebbero essere alla destra dei weeder e li provo a farmi in giro se non mi amassano prima ma io non ci capisco niente cioè su tutte pozioni aspetta zio no e mi hanno buttato il generale questa sarà dura eh ragazzi sarà molto dura allora qualcosa mi dice che questi scheletri continueranno a droppare per tutto il tempo ah là c'è il mercante ok ci siamo io sto facendo un po' di giro turistico tra i blocchi e si viena magari mercante allora risaliamo allora praticamente dobbiamo andare dal mercante e prendere se ho capito bene l'arco l'arco potremmo usarlo per sparare al weeder ah però possiamo scambiarlo solo per le crystal of anger ah ok ho capito perfetto andiamo dobbiamo killare semplicemente tutti questi cosi perfetto e a proposito ragazzi mentre stiamo killando questo weeder vi volevo dire che penso che da la prossima settimana o comunque appena diciamo così appena sarà finita questa serie che direi si dovrebbe sperando in dio concludere oggi ritornerò a fare la terra firma craft me la state chiedendo in tantissimi in realtà ho già registrato gli episodi tipo questa estate grazie mille ah ecco sì passiamocene scusate così facciamo prima però c'è un motivo molto molto semplice per cui non ci gioco c'è il fatto che mi rompe aiuto aiuto distraitemi il weeder vi prego non riesco a comprare ok sono morta e c'è che mi viene troppo difficile tutte le volte passare da una versione all'altra di minecraft faccio casino rischio di corrompermi il salvataggio quindi va a finire che non ci gioco mai però mi piace e la voglio finire ecco non me la sono dimenticata diciamo così allora adesso sono cavoli tuoi aiuto non devo no che palle dai ragazzi voi come siete messi ce la state facendo a buttargli giù e io ne ammazzo però se non si suicidano nella lava riesco a fare un qualcosina raccogliere un po' di genere ah dai prima uno e vai una l'ho mancata tre e quattro oh c'era scritto che doveva durare niente quest'arco invece sta durando un sacco di cori ma comunque vedo che la vita sta diminuendo pian piano sì infatti ma mi sa che è l'ennesimo bug ragazzi perché c'era scritto che quest'arco doveva durare no si è rifullato perché si è rifullato forse c'è un tipo il drago dell'end c'è un blocco che lo cura non lo so il Wither va colpito adesso quando? quando scende ah ho capito quindi scende quando viene giù va colpito con l'arma ah ok ho capito fantastico quindi praticamente mi fa scendere la vita colpite ci muoio ci sei morto? eh sì però comunque non bisogna non bisogna non bisogna lasciarlo in parte bisogna sempre colpirlo così dai che ci siamo dai 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 ci siamo ci siamo ragazzi ci siamo però bisogna che uno continui a fare bisogna che uno continui a fare gli scheletri ragazzi perché altrimenti cioè tu Do o Pixel continuate a fare gli scheletri va bene va bene altrimenti ce ne sono troppi e almeno questi qua che sono qua attaccati ecco aiuto aiuto ce l'ha con me vai che poca vita vai che poca vita aiuto ok sono morta aspettate non uccidete senza di me voglio esserci anch'io è una brutta cosa quando ti uccidono il boss senza di me ma mi misciottano adesso sono troppi gli scheletri lui schede qui lei e il boss ok vai che lo chiede no che palle cioè io arrivo tiro due colpi e muoio ritorno mi faccio tutta la scalinata ritiro due colpi e muoio di nuovo eh prendiamo sti cosi qua c'è una pedana che gli fa illuminare delle luci non è che bisognerebbe stare qui no non so ma vi prego venite perché stanno facendo non vi dico che cosa su di me ma non sarebbe carino se ci fossero anche in minecraft vanilla sti boss cioè penso che è carino si renderebbero un po' più interessanti le cose invece che dei soliti dungeon che si spawnano gli zombie iscritti e basta ma io in realtà ci spero perché adesso c'è praticamente la microsoft che ha comprato la mojang o almeno che ha comprato minecraft minecraft craffen craffen oh dio oh dio e però non fanno cioè non ho capito se ci faranno qualcosa effettivamente oppure no cioè prima si è parlato di si è parlato di minecraft con la story ma alla fine non è altro che un gioco a sé c'è un gioco a parte che diciamo tra ispirazione dalla grafica di minecraft ma non è in minecraft ma io non penso che quella sia fatta dalla mojang sai infatti non è fatta dalla mojang è fatta da un gruppo indipendente non ha niente con loro però quindi cioè no io vorrei capire che progetti hanno loro per questo gioco perché hanno cacciato veramente un sacco di soldi sarebbe carino capire se l'hanno fatto a uno scopo o semplicemente si parla anche di un minecraft 2 però boh non è ancora tutto eh quello sarebbe bello io vorrei adesso sinceramente andare a vedere chi l'ha fatto in modalità hard questo boss qua perché veramente in modalità hard è vai che giù vai che giù no arrivo anch'io arrivo anch'io dai ragazzi facciamolo fuori su botte dai che ci siamo aspettate aspettate non luttate che sono morta ma è morto è morto si ma prendetevi tutti gli oggetti voglio vedere anch'io dai vi prego ecco ok grazie mi fai vedere prego molto gentile fantastico nether star e una testa di guida ok il disco dovete inserirlo qua dentro l'ho passato a te ah ok ce l'ho al disco scherzavo scusate allora il disco lo mettiamo qua che succede c'è il rumore di pista ah si sta allungando un ponte ah forte aspetta intanto chiamo questo e si è aperto un passaggio volete dire che c'è di nuovo qualcosa da fare si si c'è un tunnel c'è un lungo corridoio oh mio dio allora ragazzi poteva esserci un intero episodio senza bug no in realtà non si tratta di un bug però questi due lazzaroni di doaniera e pixel dopo mentre io stavo controllando la qualità del video sono andati avanti quindi io avevo detto state fermi bravi mettetevi nell'angolo ok e praticamente ci hanno fatto ci hanno fatto ci hanno fatto arrivare il finale e io non sono riuscita a vederlo quindi grazie mille per avermi rovinato quest'ultima gioia che potevo avere prego ora per punizione vi buttate giù dal ponte vai muori suicidati vai giù te e anche il tuo collega forza demutati eccolo là io sono fra vivo ora mi metto in G a me ti kill praticamente alla fine di questo ponte c'era un command block ci doveva trasportare da una stanza ma appunto mentre io stavo controllando la qualità del video questi hanno deciso di andare avanti di fare tutto di testa loro ma non è colpa nostra se si bugga la mappa no questo non è un bug questo siete voi che siete malvagi niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere se questa serie vi è piaciuta se avete delle nuove serie da propormi le farò molto volentieri da Rowen è tutto un bacione e arrivederci al prossimo video ciao 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 ciao